Qui abbiamo... chi abbiamo qua? Andrew e Giorgia. Giorgia? Cazzo, cantami una canzone Giorgia. Allora, loro stanno in vacanza, siete al Baia Real. Hai capito che c'è i sordi? Gli italiani che cacciano i sordi? Eccoli, Baia Real, mille euro a notte, hai capito come? Ecco, mille euro a notte, no sti pitocchiosi che magari vanno che mi fa risparmiare 10 euro? Però veniamo a pranzo qua, mille euro a notte, però veniamo tutti... Perché si mangia bene. Si mangia bene? No, no, raga, io non l'ho pagati, aspetta a girare la camera, non l'ho pagati, io non lo dicono loro, io non dico nulla. Questa è la seconda volta, la terza quant'è? La seconda volta. Perciò io penso, non so se arriveranno, se torneranno ancora, questo non lo so, comunque loro vengono qui a mangiare, si trovano bene, dicono, se no non ci sarebbero venuti. Infatti, infatti, la crepe, le crepe come sono? E la cosa, la focaccia black and white? La focaccia buonissima, black and white, conoscete la black and white che è quella più sostanziosa. E la pizza? La pizza, la pizza, la pizza, la pizza, che pizza ha preso? Tutti di mare. Com'era? Buona, 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 bella, molto digeribile. Sì, sì. Allora, loro vengono, voi andate via fra una settimana, state qui già da una settimana quasi, due settimane. Hai capito, regà, due settimane 15.000 euro hanno speso questi, mica sono più tocchiosi come voi, hai capito? Sì, mi donnaggia la miseria. Certo che, veramente, se stavate con me in vacanza io vi facevo risparmiare, se avessi avuto ancora, vedavo una bella villa, con piscina privata, vedavo, a questo livello io vedavo una villa proprio con piscina e tutto quanto. Comunque, va bene, è uguale. Allora, ragazzi, comunque, allora, la vacanza ti sta piacendo? La temperatura è perfetta, ci si rilascia, c'è sempre il venticello. Il venticello che è? Da Dio, da Dio. Ma che è il suo casino? Il suo ragazzino che fa il casino. E adesso andiamo al mare, no? Sì, adesso andiamo a prendere un po' di sole. Ecco, infatti, devi prendere un po' di piano piano, perché tu hai la canneggione chiara. Sì, l'era molto piano. Sì, perché il sole è forte, lì e il sole ti fa male, qui picchia. Picchiamo la protezione. Io, penso, io sono stato l'altro giorno, la settimana passata, stato al mare, mi sono appena bagnato fino a qua, perché manco sono entrato in acqua, fino a... E mi sono messo tutto all'ombrellone, cioè, ti dico, a me mi bruciava la siena, tutto mi bruciava, e stavo tutto all'ombrellone. Nel sole l'ho visto col binocolo, perché io non me ci metto... una volta mi ci mettevo tutto all'ombrellone, capito? Che ore sono adesso, le? Le quattro e un quarto. Le quattro e un quarto. Fra un'ora ci sono... I pagliacci. I pagliacci. I pagliacci, giocano i pagliacci. Fra un'ora giocano i pagliacci. Vedete, ragazzi, qui si mangia tardi. Si mangia tardi. Tutto con calma. Con calma. Non rilieo nessuno. Non chalance. Stasera ceniamo alle dieci e mezza. Dieci e mezza. Brava, ecco. Poi, se volete andare a mangiare la carne, andate giù. Un po' dopo detto. E via. Ok? Comunque, ragazzi, loro vi salutano. E niente, se vedremo per video da Iwe lunedì sera. Ok? Forse pure padrietta. Ciao, raga.